Mio padre, il re sole in carrozza, lo ricorderò sempre per avergli fatto da per anni interi come elettricista, muratore, idraulico ed imbianchino. Eccezione fatta infatti per i suoi ultimi anni durante i quali gli feci da badante gran parte del tempo che trascorsi con lui durante la mia giovinezza fu lavorando fisicamente. È per tale motivo che si guadagnò il titolo di re Luigi come il re sole di Francia, essendo tra l'altro nato a Pozzuoli e cresciuto a Napoli, a fuori grotta.